Marco Perin, sei arrivato a stagioni in corso, come sta procedendo il tuo ambientamento? Direi che ormai mi sono ambientato a tutti gli effetti, sono servite queste settimane, soprattutto la settimana di pausa, per ambientarmi ancora al meglio, per conoscere al meglio i compagni all'interno del campo, però sta procedendo tutto molto bene e sono contento del lavoro fatto finora e di quello che potrò dare alla squadra sono molto fiducioso. Che idea ti sei fatto di questa Beccheri e del campionato in generale che è molto competitivo? Il campionato è un girone molto competitivo, fatto di squadre importanti, 6-7 squadre che possono sicuramente ambire alla promozione, tutte riunite nel solito girone, quindi ogni settimana ci troveremo davanti a una battaglia dove dovremmo farci trovare pronti. L'idea che mi sono fatto della squadra è sicuramente positiva, un gruppo di ragazzi giovani che vuole di lavorare ogni giorno, ci alleniamo al massimo e cerchiamo di riportare tutto l'impegno che facciamo in settimana per la partita. E adesso arriva un big match contro 100, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita molto tosta, troveremo sicuramente un campo con molto calore, sono sicuro che noi avremo i tifosi da nostra parte e quello secondo me sarà il sesto uomo in campo. Noi dovremmo andare là col coltello fra i denti e dimostrare comunque tutto il lavoro che abbiamo fatto in settimana e comportarci da squadra, comportarci da squadra per affrontare al meglio la partita e portarla a casa.